Gruber Logistics è una società di trasporti e logistica di origine altotesine che pur essendo oggi una multinazionale rimane legata ai valori della famiglia Gruber. Massima attenzione per il cliente e innovazione costante. La continua ricerca di soluzioni per offrire un valore aggiunto ai nostri clienti passa anche e soprattutto oggi per una maggiore sostenibilità dei trasporti. Ci stiamo impegnando per ridurre l'impatto ambientale dei nostri trasporti, investendo maggiormente nei trasporti via rotaia o in carburanti ecosostenibili con camion a gas naturale liquefatto o a diesel derivante da biomasse, con uno sguardo già rivolto verso il futuro, l'idrogeno. Viviamo l'impegno verso l'ambiente a 360 gradi e per questo abbiamo introdotto la scarpa S3 Eco Fresh di Wirt Modif nella gamma destinata ai nostri autisti che ben si sposa con il nostro impegno verso l'ambiente e una maggiore ecosostenibilità. Con questa scarpa da lavoro realizzata a 70% da filati di PET riciclati possiamo da un lato ridurre il nostro impatto verso l'ambiente e dall'altro garantire ai nostri autisti una scarpa comoda e sicura. In questa scarpa mi sento comodo alla guida e sicuro al carico e scarico. Wirt Modif e Gruber Logistics insieme per l'ambiente e le persone. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.